Buonasera e bentrovati a una nuova puntata di Gioca Serie A. Stasera tanti gli argomenti che andremo ad affrontare. Partiremo con l'Europeo Under 21 per poi passare al calciomercato, ma prima presentiamo i nostri ospiti Mattia Boria e Paolo Zerbi. Benvenuti ragazzi. Abbiamo rischiato di non avere uno dei due, non diremo mai qual è. Vi dico soltanto che non ha la Giacca Blu, ma alla fine sono riuscito ad essere qui tra voi. Ci tenevo molto. Anche noi. Sono ancora tra di voi. Apriamo la serata con gli Europei Under 21. Ieri sera l'Italia ha perso tra le polemiche e gli errori arbitrali contro la Francia. Vediamo subito il servizio. Falsa partenza per la nazionale di Nicolato, che all'esordio Euro 20-23 viene battuta dalla Francia per 2-1. Partono meglio i Bleu, che passano in vantaggio con un colpo di tacco di Calimuendo. Gli azzurri trovano il pareggio con Pellegri su azione. Nella ripresa la Francia passa nuovamente in vantaggio grazie alla rete di Barcolà. Gli uomini di Nicolato, nonostante le proteste nei confronti della terna arbitrale per gli errori, continuano a creare occasioni. Nel finale l'Italia avrebbe trovato anche la rete del pareggio con Bellanova. Luqueva ha provato a salvare, dando l'impressione di essere ben oltre la linea di porta. Gol non ha segnato, con il primo assistente posizionato male. Domenica contro la Svizzera, che ha battuto la Norvegia, già non si potrà più sbagliare per inseguire la qualificazione. Eccoci qua ragazzi, come abbiamo sentito nel servizio, tante le polemiche legate alla partita di ieri sera per l'assenza del VAR, per le decisioni arbitrali e per quel gol che c'era ma non è stato dato. Secondo voi cosa ha inciso di più sulla partita? Quali sono gli errori che sono stati fatti dalla UEFA nel non utilizzare la VAR e cosa ne pensate degli azzurrini di ieri sera? Diciamo che ci siamo messi nei guai da soli. Poteva darci una mano la tecnologia, visto che poi il tocco è stato abbastanza evidente. Non sono d'accordo sul fatto che è un'azione che si sarebbe dovuta vedere anche senza la tecnologia, nel senso che noi dobbiamo del tutto levare il dubbio sul fatto che l'arbitro possa essere tra virgolette, non dico in mala fede, ma in questo caso abbagliato perché non voglio utilizzare un altro termine. La cosa che più mi fa arrabbiare è che, diciamo così, dopo una conference league che fino a una certa fase non prevede l'utilizzo della tecnologia, ma ci può stare perché abbraccia, diciamo così, delle nazioni magari un po' indietro a livello tecnologico, obiettivamente un campionato europeo, anche se dell'Under 21, giocato in queste condizioni fa abbastanza ridere. Speriamo che, diciamo così, l'errore arrivato alla prima giornata eviti gaff nelle fasi un po' più calde. Anche perché torni indietro di, sembra l'Europa del 66, sta roba qua adesso praticamente, perché, cioè nel senso che, allora, credo che ormai giochi in stadi dove dappertutto c'è sostanzialmente la possibilità di rivedere quant'altro, ti fanno capire che la VAR, le stanze VAR possono anche stare praticamente a New York e tu giocare a Clujo dove giocavamo ieri e insomma, cioè, io guardo non sapevo neanche che non c'era la VAR, cioè è vero che all'inizio della partita non hanno inquadrato nessuno, però ho detto vabbè chi se ne frega di sapere chi è il VAR e quando l'ho scoperto ho detto che c'è una roba che non, secondo me non sta né in cielo né in terra, io penso addirittura che anche nei primi turni di conference, cioè una volta che parte la manifestazione totale, posso capire i preliminari magari, i primi turni così, ma una volta che parte la manifestazione totale bisogna trovare un modo per far sì che il meccanismo VAR ci sia dappertutto, metti che la Roma o la Fiorentina quest'anno in conference usciva i gironi perché non gli danno un gol che era dentro e la Fiorentina è andata fino in finale dopo. E tra l'altro la cosa assurda che invece il mondiale under 20 prevedeva l'utilizzo del VAR non della goal line technology. Sì, veniva confermato poi con l'utilizzo del VAR. Mi sembra la cosa un po' più strana se vuoi perché, diciamo, almeno che la cosa più facile è proprio la goal line technology. Guarda, le federazioni riescono sempre a stupire tutti con delle idee e qua ti ho dato un assist per l'ultima cosa che tratteremo alla fine di questa puntata, ma ci arriveremo. Adesso trattiamo invece le parole dell'allenatore, del CT degli Azzurrini che dopo la partita si è dimostrato molto sconcertato per l'arbitraggio. Vediamo il servizio. Davvero incredibile giocare senza supporto del VAR e della goal line technology. Faccio fatica a parlare della partita e non è mia consuetudine lamentarmi, così non lo farò nemmeno stavolta. Abbiamo perso contro un grande avversario ma gli episodi hanno inciso parecchio. Parole amare quelle di Paolo Nicolato nel post partita del debutto europeo degli Azzurrini contro la Francia. Pesa come un macigno il gol non dato a Bellanova nella speranza che non costi il passaggio del turno. Abbiamo disputato un buon incontro con corse e ripartenze, con occasioni costruite e non capitalizzate contro la Francia che, ripeto, rappresenta il top. Meritavamo di più ma non disperdiamo le energie anche mentali che serviranno per la Svizzera. Le partite si decidono sugli episodi e noi stavolta siamo stati come minimo sfortunati. Ecco, come abbiamo sentito le parole del CT è amareggiato. è amareggiato perché comunque sul gol il primo c'era un fallo, sul gol non dato poi nell'azione di Bellanova l'assistente era posizionato male e quindi non ha potuto aiutare diciamo l'arbitro nell'intervenire sulla decisione finale. La cosa che più va ad aggravare sugli europei degli Azzurri è il fatto che nel girone ieri la Svizzera ha vinto contro la Norvegia quindi si porta tre punti, la Francia di punti ne ha già tre e noi domenica incontriamo la Svizzera e siamo a un bivio, un po' con le spalle al muro, è già una gara da dentro fuori. Beh sì, di fatto siamo costretti a vincere tutte e due le partite, sia quella di domenica giusto con la Svizzera e poi c'è la Norvegia e quindi sotto questo punto di vista chiaramente un punto ieri avrebbe fatto comodo, anche se poi la Svizzera era comunque a tre e credo sempre che devi fare la corsa, cioè le due favorite credo che siano Francia e Italia in questo girone telecamere a parte, telecamere spente a parte, quindi cambia poco sostanzialmente sotto quel punto di vista lì. È chiaro che adesso hai proprio tutto il peso di questo tipo di partite. Anche nell'ottica poi di un biscotto così come si suol dire finale, perché poi non sai mai. Stiamo già parlando di biscotto dopo 90 minuti, siamo proprio entrati nel clima nazionale. Ho mangiato poco mi pare oggi, quindi già ci ha fanno. Mi sto portando avanti. Esatto, sappiamo benissimo quando è andato a finire. No, quello che volevo dirti io è che invece basandoci sui 90 minuti, secondo me le topiche arbitrali sono una cosa a parte, mi è dispiaciuto vedere un nazionale che secondo me avrebbe potuto magari far qualcosa di più, nel senso che ci sono state le occasioni per far male. Gnotto è entrato soltanto nel finale, è ovvio che poi a bocce ferme è sempre più facile, io l'avrei inserito prima anche perché è lui che provoca l'espulsione del transalpino e obiettivamente anche se penso che sia stata una scelta fatta per salvaguardare il gruppo, nel senso che l'ultimo arrivato giustamente non puoi farlo tirare i 90 minuti, ha messo dentro per spaccare la partita e purtroppo ce l'ha anche riuscito. Sì, anche se poi penso che a fine Gnotto è arrivato dopo perché era in nazionale e qui apriamo il capitolo perché Tonali era capitano, va bene, secondo me poteva fare tranquillamente, ripeto, 60 minuti con la Spagna perché tanto scarso non mi sembra e pensare un po' meno al Newcastle. A proposito di minuti, c'è qualcuno che in campionato ne ha fatti pochi e che ieri gli stava appunto quasi per scappare il gol che è Bellanova, che con l'Inter non è riuscito a incidere così tanto e vuole giocarsi questo europeo con la nazionale da protagonista per rimanere nell'Inter o comunque in una grande squadra. Vediamo il servizio. Uno spezzone di finale di Champions per Raul Bellanova può stare a significare che il meglio debba ancora venire. Non c'è stato molto spazio per il giocatore che l'Inter di Simone Inzaghi deve ancora riscattare dal Cagliari. Lui che nell'Under 21 è impegnato agli europei e è tornato ad essere il titolarissimo, una cosa che mancava dall'anno passato in Sardegna e condito da 31 presenza in A è il gol contro il Torino. Il prodotto del Milan sogna di affermarsi nei cugini nerazzurri e in europeo da protagonista sarebbe il miglior bigliato da visita per una preparazione che l'Inter comincerà il prossimo 10 luglio alla Pinettina. Ecco qua, come abbiamo sentito nel servizio e come dicevamo prima, Bellanova vuole fare bene perché anche se lui è un ex Milan vorrebbe affermarsi con i nerazzurri in Serie A e vorrebbe rimanere. Quest'anno pochi spazi gli ha dato Simone Inzaghi anche perché in alcune occasioni purtroppo sembrava ancora un po' acerbo. Secondo voi qual è il percorso giusto che dovrebbe fare Bellanova europeo a parte? Beh innanzitutto ringrazio quel bravissimo giornalista perché insomma so che ha fatto un lavoro, ha centrato il punto. No, mi ha passato appunto un pizzino. Lui e Pellegri sono i giocatori con meno minuti stagionali diciamo degli 11 partiti però. Se fosse entrato tutti e due poi sono quelli con meno minuti che hanno fatto gol poi ieri sera effettivamente. No, la sensazione nostra, insomma ieri vedevo un po' con qualche collega la partita, è che effettivamente magari nella zona un po' più calda, quindi in attacco, manchiamo di giocatori con l'esperienza che magari dovresti avere. Lo stesso Pellegri aveva fatto un passaggio al Milan abbastanza dimenticabile nel senso che lui ha avuto quello sprazzo nel Genoa, poi poi è stato al Monaco. Dove aveva fatto la doppietta forse. Il giocatore più giovane a segnare in Serie A nella partita da Dio di Totti, fece l'1-0 e poi obiettivamente come tanti fan prodige vengono super pagati ma non riescono a rispettare le aspettative. Adesso mi sembra un ottimo prospetto ma non riesce a trovare continuità nel Torino anche per problemi fisici. Speriamo che non sia come per Bellanova, questo europeo è stato a convincere Juric da una parte, dall'altra l'Inter. L'Inter cosa deve fare? Cedere Gosens e recuperare i soldi per riscattare questo giovine. Si parla di 6 milioni per lui. Non credo ci siano grosse aste perché obiettivamente è un prospetto però deve ancora far vedere molto anche perché se in due campionati uno da praticamente titolare ha fatto 31 presenze con il Cagliari, ha piazzato un gol e due assist e con l'Inter ha dimostrato credo due assist stagionali di essere ancora acerbo in fase di ultimo passaggio. Però sicuramente è un buon prospetto per gamba, età, mi sembra da coltivare. L'unica cosa che ho il dubbio è che se parleranno, credo, Simone Zaghi e Marotta per capire se effettivamente non giocava solo perché è il primo anno in una big e c'è davanti, onestamente, dei giocatori più forti oppure se effettivamente magari faceva fatica già anche in allenamento e quindi paradossalmente magari ha bisogno di un altro anno di giocare. Però dai, ha fatto anche... oggi mi ha fatto il calco che erano 22 minuti in finale di Champions. Sì, è entrato il 76esimo. Tutto sommato, credo, 20 minuti. Quindi credo che comunque una possibilità gli verrà data. Beh, Zaghi quando poteva, fiducia gliela ha sempre data. Ricordiamo anche alcune partite dove San Siro non è stato d'accordo con le scelte di Zaghi e fischiava il giocatore per alcuni errori che potrebbero essere riconducibili appunto al fatto che il giocatore sia ancora giovane e inesperto per certi palcoscenici. Anche perché se fai un anno in Serie A e ti trovi all'Inter, tra l'altro un Inter per larghi tratti della stagione quasi disfunzionale, perché poi c'è anche da dire che entrare nell'Inter del triplete tutto sommato era paradossalmente facile. Entrare in un Inter che ha perso lo scudetto così l'anno precedente, che ha bisogno comunque di consolidare la propria presunta egemonia in Italia che poi non si è mai vista per la lotta per il primo posto, è uscito alla distanza come magari l'Inter stessa. Adesso vediamo qui cosa può fare, anche perché veramente al di là dell'Inter magari fa un super europeo e va a prendere qualcun altro. E ce lo auguriamo che lo faccia per l'Italia insomma. Adesso vediamo quest'ultimo servizio per il capitolo europei Under 21 che ricordo che si giocano tra Romania e Georgia, dove facciamo un piccolo recap su tutte le partite del weekend e soprattutto con particolare attenzione alla sfida Svizzera-Italia di domenica sera. Entra nel vivo l'europeo Under 21, dopo il debutto amaro contro la Francia bisognerà attendere alle 18 di domenica per vedere se gli azzurrini di Nicolato contro la Svizzera potranno proseguire nel loro cammino. Alle 20.45 invece le Bleu saranno attesi dalla Norvegia battuta 2-1 all'esordio dai Rosso Crociati. Con un passo indietro nel calendario, nella serata di sabato saranno di scena Romania-Ucraina e Spagna-Croazia impegnate nel gruppo B, mentre Portogallo-Paisi Bassi e Georgia-Belgio saranno a giocarsi il girone A. Tornando domenica oltre all'Italia, il suo girone scenderanno in campo Inghilterra-Israele e Repubblica-Cecca-Germania. Il round robin è già al giro di boa, qualcuno potrà gioire, qualcun altro potrebbe già andare a casa. Sempre ieri sera, in chiave europeo Under 21, il nostro capitano Tonali è l'uomo del mercato, è l'uomo del momento perché, come lui aveva detto non troppo tempo fa, Io sogno di diventare una bandiera del Milan, ricordiamo penso tutti la lettera che aveva scritto a Santa Lucia dove chiedeva il completo del Milan e di giocare un domani nel Milan. Ha ricevuto un'offerta dalla Premier sostanziosa a livello economico, al Milan dovrebbero arrivare 70 milioni più bonus e al giocatore 7 milioni di stipendio più eventuali bonus. E lui non ha saputo dire di no e si è lanciato verso la Premier. Vediamo subito il servizio e poi commentiamo insieme la scelta di Tonali, di salutare i colori rossoneri. È fatta per il passaggio di Sandro Tonali al Newcastle. La società inglese e il Milan, insieme all'entourage del giocatore, stanno limando gli ultimi dettagli che porteranno il centrocampista classe 2000 nel campionato inglese in una delle società maggiormente in ascesa degli ultimi anni. L'operazione porterà nelle casse del Milan 70 milioni di euro più 5 di bonus, con la possibilità di arrivare a 80, vista la presenza di una percentuale sull'eventuale futura rivendita. Il giocatore, invece, firmerà un contratto di 6 anni a 7,5 milioni di euro stagione, triplicando di fatto la remunerazione che percepiva il Milan. Si chiuderà a breve Tonali al momento impegnato con la nazionale Under 21 ai campionati europei e proprio per questo le visite mediche si potrebbero tenere in Romania, dove è atteso anche il direttore sportivo del Newcastle, Dan Ashworth. Ecco qua, le visite mediche pare che siano state fatte proprio in Romania, perché Sandro è impegnato nell'Europeo Under 21. Voi ragazzi, ieri sera come l'avete visto in campo e che cosa ne pensate della sua decisione di trasferirsi in Premier al Newcastle? Beh, sulla presenza di ieri la temevo, nel senso che soprattutto prima dell'assist sbaglia un pallone a metà campo. Obiettivamente è un giocatore di rendimento, è un giocatore di carattere, è un giocatore che però sta giocando nell'Under 21, quindi non ci si può pretendere di essere così maturo da tenere magari fuori alcuni discorsi dal rettangolo di gioco. In realtà, secondo me, essendo appunto un giocatore di quantità e qualità, è uscito alla distanza e, insomma, pur non essendo in un ruolo che risalta, si è visto in maniera evidente la differenza magari tra lui, che comunque ha già due anni, tre anni alle spalle col Milan, e due davvero protagonista, piuttosto da altri giocatori che sono sì protagonisti ma in piazze magari un po' più piccoline. Sì, poi adesso ovviamente quelle notizie di mercato ti travolgono un pochino totalmente, anche perché qua è un cambiamento epocale per lui, nel senso che è una svolta della carriera non da poco, dicevi tu giustamente le cifre di stipendio e operazione, credo che poi alla fine siano contenti tutti, eccezione fatta per quella parte lì, ed è quella parte lì poi dopo che gli si sta facendo pesare, perché se non era Tonali ed era Ben Nasser, adesso parlo un nome, fregava niente a nessuno, avrebbe pesato tanto, però 80 milioni non arrivavano. Nel senso, qua c'è proprio la componente di lui che diceva, del Milan e quant'altro, è anche vero che va in una società che quest'anno è arrivata terza, che ha dietro un capitali non da poco, e che tra l'altro sta comprando giocatori tutti funzionali, alla causa tutti molto giovani, quindi non è il Paris Saint-Germain che compra giocatori, è un po' a caso, però nel senso fortissimi, magari anche più forti di Tonali ovviamente, però un po' da figurine. Nomi blasonati e poi magari in campo. Hanno creato qualcosa e sicuramente essere arrivati terzi, va a far la Champions, giocano un campionato che probabilmente può anche essere funzionale, onestamente il Milan l'anno scorso se la Juve non veniva penalizzata era quinto, nel senso ricordiamoci sempre questa cosa qui, quindi magari anche il Milan non ha visto quel Milan ambizioso, come può essere la realtà dove è andata. La verità che secondo me è la classica trattativa in cui vincono tutti, anzi paradossalmente quello che rischia di rimettere di più è il Newcastle, perché poi se Tonali arriva e non riesce a far subito breccia, come è stato col Milan, magari fa un altro anno un attimo di assestamento in Premier, lì non ti aspettano, il Milan ti ha aspettato, lì si rischia di fare una brutta figura, spero di no perché poi il gap che potremmo colmare noi, mandando comunque dei prospetti come Tonali all'estero, è evidente. Però secondo me è un campionato giusto, nel senso ha fatto una scelta tutto sommato buona, nel senso che mentre l'anno scorso che sì, un po' il punto di domanda c'era, nel senso che lui giocatore molto di rottura fisico e quant'altro, va nella squadra dei palleggiatori, tutti dicevano ma cosa va a farci, nel senso vai a guadagnare, però alla fine anche quest'anno non è che si è integrato tantissimo, tant'è che si parla ancora di Inter interessata, al giocatore di lì mi sembra essere un pochino il campionato suo, una squadra un pochino che può, come ti ho detto prima, pesca tanti giovani, ha speso anche 70 milioni per Isaac. Secondo me potrebbe diventare un Arsenal, che potrebbe farcela, nel senso che loro non li crescono da giovani, vinceranno come l'Arsenal, tanto quanto l'Arsenal. Spero vincere un po' di più per l'ultimo Arsenal, perché poi l'Arsenal comunque con Ben Gara ha vinto. Allora, adesso ci fermiamo un attimino per la pubblicità, ma state connessi perché torniamo tra pochissimo. Amici di GiocaBet, bentornati alla puntata di GiocaSerie A di questa sera. In apertura abbiamo parlato degli europei e del caso Tonali, che appunto è passato al Newcastle. Rimaniamo sempre nell'ambito del calciomercato, dove è derby tra Milan e Inter. Scopriamo perché nel servizio. Il derby tra Inter e Milan è pronto a scaldare la già rovente estate meneghina. Se il campo nelle ultime sfide ha sempre premiato i nerazzurri, ecco che i rossoneri provano a fare lo sgarbo in sede di mercato. La cessione di Tonali permette al diavolo di avere liquidità, non indifferente per lavorare sul mercato. C'è da rinforzare il centrocampo, per questo il Milan vorrebbe Davide Frattesi, che dopo il Sassuolo rimarrà in Italia, e che sembrava ormai destinato all'Inter. Nulla è ancora deciso, mentre sembra essere stato solo uno sgarbo, il sondaggio del Milan per Romelu Lukaku. L'attaccante belga è di proprietà del Chelsea, ma in Italia difficilmente lo si vedrà con un'altra maglia, che non sia quella nerazzurra. La lotta per Frattesi riaccende, i derby milanesi in sede di mercato, riportando alla mente le schermaglie tra le due società con alterne fortune. Stefano Sensi con Dogbia, Giacomo Bonaventura e David Suazzo i protagonisti, senza dimenticare Zlatan Ibrahimović, capace però di far esaltare, prima i tifosi dell'Inter, poi quelli del Milan. Ecco qua, come abbiamo sentito nel servizio, quest'anno abbiamo visto e abbiamo avuto la fortuna per alcuni, la sfortuna per altri, dipende poi, diciamo, qual è la fede calcistica, di vedere tanti derby tra campionato e poi la Champions League. Adesso un altro derby, che è quello, diciamo, sul mercato, sugli acquisti, sulle entrate e sulle uscite. Archiviato il discorso, diciamo, tonale per il Milan, si potrebbe aprire il discorso Frattesi, che è il centrocampista un po' del momento, e che tutte le squadre italiane, perché lui sembra aver rifiutato offerte estere, lo vogliano. Lo vuole l'Inter, lo vuole il Milan. Dove va lui? Dove va non lo so, nel senso che lui pare che abbia già deciso, pare che abbia detto che abbia già deciso, poi dopo è chiaro che bisogna decidere in tre. No, i matrimoni si fanno in tre, ormai non più in due. La particolarità, secondo me, il Milan ha commesso un solo errore, che però è dettato dalla velocità con cui il Newcastle è venuto a prendere tonali, nel senso che quando fai un'operazione in cui un giocatore come tonali, che forse non vale 70 milioni, ma è la fortuna che te li danno, devi riuscire a tenerla un attimo calmirata, in qualche modo, e avere subito un'alternativa praticamente già pronta, perché altrimenti adesso sia il Sassuolo e soprattutto l'Ottito alla Lazio, nel caso di Milinkovic-Savic, sanno che il Milan ha in mano una certa cifra e ti possono sparare qualcosa in più, ovviamente, no? Si rischia il caso Bremer 2.0. Eh, Bremer, ma io mi ricordo anche il Milan quando vendette Shevchenko e Oliveira. E poi sanno che hanno bisogno, perché Benasser è fuori, Canali è andato in Premier. Sì, sì, sì. Sì, sì, perfida, brava, provvedati. Il Milan due centrocampisti li deve fare per forza, poi se saranno Frattesio e Milinkovic-Savic secondo me è un buon giro, no? Nel senso, se saranno invece due Bori e Zerbi, evidentemente avrà sbagliato. Però ponetevi. Io vado, qualche cifra. Perché no? Un milioncino, secondo me, lo posso ancora lucrare. Sì, 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 sì. E quindi bisogna... Di rottura come che sia, lo dico. Sì, effettamente. Se c'è qualcuno a casa interessato, fai la tua candidatura. Perché con Maldini era fatta, pare che sia proprio il mio arrivo che abbia... hanno detto di no e Maldini se n'è andato perché se no, senza di me non c'era il Milan, ha detto. Però, torniamo a parlare di cose serie, vogliamo dire... Tolte le stupidate. Allora, Frattesi in realtà, secondo me, mi sembra il giocatore fatto e finito per la Premier e non capisco perché ci sia questa... No, ma perché non voglio andare lui. Appunto, non capisco perché lui non voglia andare a... Non so come dire... Impreziosire o comunque giocarsi le proprie carte. Però sai che lo capisco, nel senso che... Allora, adesso lui sta entrando nel giro della Nazionale. Ha giocato per ora su... Cioè, è esploso, però in una realtà come Sassuolo. Secondo me... Adesso non è che deve per forza andare sempre come Scamacca, però sai, nel senso vai... Si preserva. Secondo me... Io capisco di più un giocatore che però voglia fare gli step giusti senza andare subito a sfondare. Cioè, ci sono alcuni giocatori che magari fanno subito... Oh, Verratti l'ha fatto, eh. Pescara. Pescara. Parigi. No, nel senso... E non mi sembra che sia andata male. No, 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 certo. Però ci sta anche che tu magari vuoi restare un po' nella tua comfort e poi andare effettivamente esplodere lì. Onestamente dai, lui davvero vuole andare all'Inter, no? Perché giocherebbe a tre in un centrocampo a tre, come giocava a Sassuolo, lascia stare che lì giocava a tre, a cinque e due, lì giocava a quattro, tre e tre, giocherebbe in un centrocampo a tre, l'Inter onestamente quella di fine anno ha fatto vedere di essere una signora squadra e può andare in una squadra che è comunque ambiziosa, che vince, cioè che può lottare per vincere lo scudetto e può essere comunque protagonista in Europa. Tutto sommato anche se non va Casca e piedi. se non va al Tottenham va bene lo stesso. Il fatto che lui dica ho scelto ma non lo dico secondo me perché anche lui sa benissimo che ora l'Inter deve, rischia di dover alzare un po' l'offerta perché i cugini milanisti giusto un po' di cash dovrebbero averlo e su Milinkovic, Savic signori, qua si rischia ancora l'ennesimo anno in cui il giocatore evidentemente vorrebbe lui sì magari testarsi oltre la comunque competitiva Lazio perché ricordiamo che farà la Champions però l'Otito signori senza il trentello mi sa che però è in scadenza cioè l'Otito rischia che se quest'anno lo tiene ancora alla sua corte non sarebbe primo né ultimo dopo non guadagna insomma più niente. Anche lui si è bello esposto però adesso l'Otito? No, ma sul fatto che Savic può fare quello che vuole il problema è che alla Lazio mi sembra evidente che la cura l'Otito abbia abbia portato anche dei dividendi se non arriva l'offerta giusta ragazzi anche perché però Milinkovici in scadenza quanto vuoi prenderlo? 30? Sì, sì, sì ma il problema è che con cui devi darti 30 milioni e se arriva il Milan e l'Otito sa giustamente come la perfida rovedati sottolineava che il Milan ha bisogno di un giocatore e ha dei bei fondi con l'Otito non vorrei mai trattare dietro la punta un altro che ha detto dei no è Lukaku ha avuto offerte lui ricordiamo che la stagione corrente l'ha appena finita con l'Inter però il suo cartellino è del Chelsea Lukaku sembra non voler tornare al Chelsea ha avuto offerte dall'Arabia anche sostanziose a livello economico ha detto no e ora c'è la voce Lukaku al Milan vediamo il servizio e poi sentiamo il parere dei nostri ospiti c'è chi dice no lo cantava Vasco Rossi oggi lo dice con fermezza anche Romelu Lukaku no alla nuova offerta monstra in arrivo dall'Arabia da 30 milioni a stagione no alla pazza idea del Milan che si è inserito nella trattativa forte dei 60 milioncini prossimi all'entrata dalla vendita di Tonali è un no che però inguai all'Inter che senza liquidità per acquistare il giocatore a titolo definitivo è ora costretto a battere la concorrenza con qualche altra soluzione che convinca il Chelsea a un altro prestito la decisione del bomber belga resta la colonna portante di tutta l'operazione netta è la sua volontà di rimanere in Europa altrettanto netta l'intenzione di non passare nuovamente come traditore qualora il nero-azzurro per forza di cose dovesse diventare rosso-nero ecco Lukaku ha fatto come Vasco e ha detto no ha detto no all'Arabia che sembra l'offerta più concreta che abbia ricevuto lui aspetta l'Inter il suo volere è sempre stato quello di rimanere all'Inter si è pentito della scelta che ha fatto una stagione prima andando al Chelsea per un affare che poi all'Inter è solo che convenuto perché comunque ha riempito le casse la voce Milan è vera non è vera secondo voi il giocatore è disposto ad andare dai rivali poi del Milan ha fatto bene a dire di no all'Arabia ancora degli anni in Europa beh allora il giocatore mi sembra super competitivo in Italia che il Milan possa aver avuto un'idea ci sta che si possa concretizzare no perché tu magari non sei così fan di Vasco ma la canzone dice c'è chi dice no io non mi muovo e penso che sia proprio quello che ha detto il buon Lukaku perché sennò aveva rifatto il murales fuori a San Siro ecco mi hai pregato perché invece io come ho detto in redazione credo non lo so forse me lo sono sognato sogno che rifaccia il murales con Lukaku che abbraccia questa volta il buon Ibrahimovic perché poi scambi Inter Milan così scioccanti secondo me perché poi Siedro no poi questo non è uno scambio no scusami cambi di maglia così scioccanti ma cambia nel senso che questo qui mi è sembrato proprio essere una cosa della serie la società Milan fa uno sgarbo sapendo benissimo che tanto Lukaku in Italia va solo all'Inter poi non so se tornerà all'Inter se non so se andrà resterà in Inghilterra se andrà in Spagna se andrà in Francia ovvio al Milan c'è trova e ti serve perché Giroud Ibra non c'è più e Giroud sta facendo la fine di Ibra tra un po' nel senso quindi là davanti qualcosa serve però ce ne sono 50.000 allora Lukaku è forte se il Milan lo prende non è che dici che al di là di tutto ha preso un abbaglio un giocatore scarso prende comunque un giocatore forte però prenderesti un giocatore che la curva non vuole cioè i tifosi comunque non vogliono e tutto manderesti in subuglio la parte inter e quant'altro secondo me è proprio una cosa che non sta in piedi visto come è stato preso lo scambio con Cialanoglu immagino che poi non è scambio perché ha fatto tanto il cambio di maglia però secondo me un paio di murales a Lukaku andrebbero a dedicare gli interisti ripeto mi sembra una roba molto più giornalistica che reale no ma secondo me avrà abbussato nel senso così no tu ci provi ma giusto per giusto per creare un po' di di casino buona fortuna a Lukaku perché se dall'Arabia ti arrivano dei bei soldi e il Chelsea comunque prova a spingerti verso questi fantastici lidi anche Ziek Koulibaly è un altro giocatore del Chelsea sono nati in Arabia sostanzialmente Canté ma forse un altro ancora allora perché era un nome che non ricordo anche perché credo che si siano vagamente incartati a Londra perché hanno 42 giocatori in esubero che stanno provando a piazzarli tutti tra cui l'ex Inter che è finito alla corte di Pep Guardiola Kovacic tra 30 milioni anche lì tutti i giocatori che da noi erano prospetti e sono diventati campionisti dalle altre parti chissà se Tonali non dovesse ripercorrere queste orme io dico che Lukaku in qualche maniera arriva all'Inter buona fortuna però sul quando e sarà una trattativa secondo me lunghissima tra l'altro l'Inter deve fare qualcosa sicuramente perché adesso ha solo Lautaro Lukaku tecnicamente in questo momento non ce l'ha Dzeko è andato al Tenerbace e Correa insomma se dimostri di crederci è un bel rischio Correa e comunque te ne mancano due eh sì sì perché poi abbiamo visto i problemi fisici di Correa non è pronto in questo momento una stagione intera a darti la titolarità garantita eh sì sì ma anche quando c'è nel senso anche qua il problema che c'hai anche fosse sano hai un giocatore che l'anno scorso comunque per metà stagione tre quarti i giocatori dell'Inter speravano che non vedevano vederlo mai neanche in panchina poverino cioè nel senso poverino è un buon giocatore l'anno scorso non ha dimostrato di essere comunque un giocatore da Inter anche da subentrante da quarta punta quindi secondo me l'Inter deve fare qualcosa di serio infatti è su Turan come il Milan infatti è eh secondo me il derby vero magari è su Turan anche se Milan prende Lillian esatto Milan prende Lillian e diciamo così noi dobbiamo accontentarci di questi profili anche perché se adesso anche l'Arabia ci va tra vivette rubare usato garantito facciamo fatica poi Brozovic ha 20 milioni un altro giocatore che che l'Inter deve cedere per forza perché se arriva frattesi poi sono anche troppi e poi le cifre dell'Arabia non sono pareggiabili non sono pareggiabili in questo momento neanche minimamente neanche per il giocatore a livello di ingaggio personale cioè non penso ci sia una squadra in Europa che possa pareggiare le cifre che offre il campionato saudita l'Arabia fa cioè rende tutti messi perché 20 milioni per Brozovic al netto il fatto che è un campionissimo è qualcosa di anche brutto da sentirsi dire 20 milioni ma come fai a dire di no? cioè 20 milioni ma no dai a tutto deve esserci un limite che poi quello che guadagna Boria gioca bet più o meno euro più euro meno mi accontenterei di un terzo va bene mandiamo una rete direttore facciamo un terzo facciamo un contrattino siamo a posto così e sarei disposto anche a condurre qualcosa in Arabia se mi dessero 7 milioni di euro invece siamo qui va bene continuiamo così invece chi non si è diciamo più accontentato di far parte della UEFA Football Board è Murigno vediamo prima il servizio e capiamo perché ha deciso di abbandonare questo progetto Murigno non ci sta non gesti plateali come le manette mimate ai tempi dell'Inter ma significativi dopo la squalifica di 4 turni in partita gli dalle UEFA il tecnico portoghese ha infatti scritto a Boban queste parole le condizioni in cui credevo così fortemente quando sono entrato non ci sono più e ho sentito l'obbligo di prendere questa decisione questo è il passaggio più significativo nelle poche righe scelte per comunicare di non voler far parte del UEFA Football Board il comitato che ha come obiettivo quello di discutere scambiare idee legate direttamente al gioco del calcio un gesto che lo fa entrare ancora di più nel cuore di una piazza che voleva un condottiero in grado di difenderla Roma è pazza di Mu e spinge per il rinnovo dello Special One Ecco come abbiamo sentito nel servizio ieri è arrivata appunto la notizia in serata di Murigno che ha scritto una lettera alla UEFA dove diciamo cordialmente abbandonava questo progetto che sia stata scritta questa lettera dopo le giornate di squalifica che Murigno appunto ha ricevuto per gli insulti all'arbitro questo non c'è certezza e non è correlato quello che sicuramente è certo è che Murigno non farà più parte della UEFA Football Board che per chi magari dei nostri amici a casa non lo sa è un consiglio diciamo che è stato creato per aiutare il mondo del calcio con dei volti noti e dei personaggi influenti che potessero portare dei consigli per uno sviluppo migliore del calcio Murigno ha fatto bene è sempre Murigno contro gli arbitri è sempre Murigno con i gesti estremi o questa volta Murigno ha ragione ma diciamo è sempre il Murigno comunicatore che sceglie perfettamente poi possono piacere o no delle prese di posizioni tra l'altro il adesso non so chiamiamolo un comitato d'ascolto l'aiuto da casa se fossimo in un gioco a premi questo UEFA Board è l'aiuto da casa nel senso che ci sono appunto Angelotti Murigno c'era Philippe Lamb quindi personaggi stimati e riconosciuti del nostro calcio che potevano dare appunto dei consigli per sviluppare il mondo del pallone è evidente che Murigno si sia sentito defraudato dopo la finale sinceramente al netto della squalifica che ci può stare a me la cosa che fa più ridere è che sia arrivata la sanzione per quanto riguarda i tifosi della Roma mentre mi risulta che una squadra italiana abbia ricevuto il proprio capitano dei soccorsi perché un accendino se non erro gli ha finito in testa quindi Murigno eclatante risposta eclatante più eclatante di un giocatore che deve finire la partita col turbante perché è stato colpito dai tifosi avversari non c'è quindi credo che l'utilizzo di questa scelta di Murigno sia per far capire che ci sono ancora due pesi due misure ma questo purtroppo lo sappiamo magari l'Italia non è più influente come un tempo anche perché se i campioni ce l'hanno con gli altri tendenzialmente l'arbitro anche qui non voglio parlare di malafede ma per salvaguardare lo spettacolo non deve non deve inficiare i campioni degli altri noi purtroppo ne abbiamo un po' pochini no è vero Murigno secondo me è sempre Murigno non è bene non è male e ovviamente credo che non abbia ancora digerito quella finale di Europa League e indubbiamente poi anche le quattro giornali di squalifica che ci possono stare onestamente perché poi la scenata è stata plateale e non ti puoi esimere è anche vero come dicevi tu ci sono state altre cose plateali nelle finali e evidentemente non tutti sono stati puniti nello stesso modo ma adesso passiamo a un altro capitolo con il Lecco che sta cercando ancora casa scopriamo perché nel nostro servizio caos in casa Lecco dopo aver ritrovato la serie B che mancava da ben 50 anni la società blu celeste rischia addirittura di ripartire dalla D tutto nasce dopo il caso stadio il rigamonti i ceppi non rispette i canoni della cadetteria quindi andava trovata una soluzione originariamente ritrovata nell'Euganio a Padova il grande errore commesso è che è stato fatto oltre il tempo limite un'ingenuità risolvibile se le carte fossero state completate durante i playoff per prevenire proprio quello che è successo la Lega si riunirà in ogni caso il ricorso da parte del presidente di Nuno e i suoi legali è già pronto puntando sul fatto che gli spareggi sono iniziati dieci giorni dopo e soprattutto le carte per l'iscrizione alla serie C non sono state completate il Lecco ora le prova tutte per tornare davvero in B o perlomeno non ripartire dalla serie D allora come abbiamo sentito nel servizio il Lecco ha vinto i playoff e quindi è in serie B ma non è in serie B per il momento perché lo stadio non è omologato non è adatto una domanda molto secca secondo voi il Lecco ha sbagliato a non fare la domanda nei tempi giusti ci può stare perché in quel momento era concentrato ad accedere alla serie B chi è il colpevole di tutta questa storia e come si risolve secondo voi temevo mi chiedessi secondo te il Lecco ha sbagliato a vincere il playoff e purtroppo sono cose che capitano sull'Ecco lascio all'avvocato Zerbi che è super ferrato Enrico Monticeppi è uno stadio molto bello sembra il Marassi piccolo più piccolo ma tutto incastonato in case centri commerciali scuole quindi pare che il prefetto non abbia neanche dato troppo l'ok nella gestione della serie B io resto dell'idea di una cosa sicuramente un errore da parte della dirigenza blu celeste c'è stata nel senso che a prescindere loro non hanno presentato neanche la domanda di iscrizione alla C a prescindere qualcosa dovevi fare e dovevi informarti comunque per tempo e tutto quant'altro vuoi anche l'euforia dei playoff ma insomma un segretario poi dopo quello fa nel frattempo in settimana quindi qualcosa c'è stato di sbagliato però al tempo stesso io se fossi la federazione la federazione tante volte da noi fa i compiti della serie tu commetti un errore ti do una stangata e ti faccio ripartire sì perché poi ripartirebbe dalla D ripartirebbe dalla D qualcuno dice anche dall'eccellenza e il se io fossi la federazione cercherei di aiutare invece una squadra a dire guarda che non è ancora presentato la PEC devi presentarla assolutamente entro il 10 di luglio se no non puoi giocare poi dopo perché non l'abbiano fatto sei arrivato in ritardo i playoff sono partiti più tardi andare secondo me è una cavolata anche il fatto che il Catanzaro vada a giocare a Bari il Padova il Lecco vada a giocare a Padova io sono convinto che se hai una struttura tutto sommato buona dove riesci ad adeguarla per i diritti tv che ovviamente sono diversi da categoria a categoria e le altre cose io trovo abominevole il fatto che la federazione ti obblighi a giocare in uno stadio da 70.000 persone per dire da 20.000 persone perché tu ce l'hai da 5.000 quando sai che lo stadio tuo vanno in 4.000 5.000 che poi cari amici di Lecco cari italiani c'è sempre la risposta a Sassuolo Sassuolo ospita tutti aspettiamo Lecco a Sassuolo abbiamo risolto la serie B si fa e siamo contenti tutti ma Sassuolo è un bello stadio c'è già tutto a posto è già tutto pronto è già tutto omologato ma andiamo anche noi a Sassuolo andiamo a Sassuolo la prossima la faremo dallo stadio di Sassuolo ci troverete lì anche a noi anche il calcio arabo venga Sassuolo con i vari Cristiano Ronaldo Brozovic Benzema e allora forza Sassuolo allora io vi ringrazio per l'attenzione e siamo in chiusura io vi aspetto di lunedì mercoledì e venerdì dalle 20.05 sul canale 113 per la Lombardia e 82 per il Piemonte e una buona serata grazie a tutti